Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tutti i dati della prima serata e non solo, spettatori e share dei principali appuntamenti di venerdì 29 aprile 2022 Ascolti TV del Prime Time di venerdì 29 aprile 2022 Meno The Band di Carlo Conti, in onda su Rai 1, non in grana e, rispetto alla prima puntata, perde oltre 500.000 autenti, ieri è stato visto da quasi 2.5 milioni di spettatori, share al 13,2% 7 giorni fa 16,2% Parlare di flop è esagerato ma senza dubbio si è innanzi a dati poco gratificanti Rispetto a una settimana fa, cresce invece l'isola dei famosi Il reality show di Canale 5 ha intercettato oltre 2,4 milioni di utenti, venerdì 22 aveva raccolto 2 2 milioni di persone, e uno share del 17,1%. Anche in questo caso non si è di fronte a numeri eccelsi Il bicchiere mezzo pieno, è che il programma di Hilary Blasi consolida il proprio pubblico Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata. Rai 1-The Band, 2. 481.000 spettatori e il 13,2% di share. Rai 2, NCIS, 1345 0.000 spettatori e il 5,9% di share, NCIS, 1.002.500% Rai 3, Germinal, 644.000 spettatori e il 3,1% di share. Canale 5, l'isola dei famosi, 2 463.000 spettatori e il 15,5% di share. Italia 1, Rocky 3, 1.010.000 spettatori e il 4,8% di share. Rete 4, quarto grado, 1. 310.000 spettatori e l'8,1% di share. La 7, Propaganda Live, Diario di Guerra, 816. 0.000 spettatori e il 5,2% di share. TV8, I delitti del Bar Lume, La Famiglia Navale, 298. 0.000 spettatori e l'1,5% di share. 9, Fratelli di Crozza, 1. 199.000 spettatori e il 5,6% di share. Ascolti TV venerdì 29 aprile 2022, il pomeriggio e il preserale Rai 1, Soliti ignoti, il ritorno ha coinvolto spettatori per cento. Canale 5, Striscia la notizia ha interessato una media di spettatori per cento. Rai 1, L'eredità, la sfida dei sette ha raccolto spettatori per cento, mentre l'eredità ha avuto un ascolto medio di spettatori per cento. Canale 5, Avanti il primo ha registrato spettatori per cento, mentre Avanti un altro. Ne ha avuti per cento. Ascolti TV venerdì 29 aprile 2022, il pomeriggio.Rai 1, Oggi è un altro giorno ha interessato spettatori per cento. Rai 1, Il paradiso delle signore ha raggiunto spettatori per cento. Rai 1, La vita in diretta ha raccolto spettatori per cento. Rai 2, Detto fatto ha avuto spettatori per cento. Canale 5, Beautiful è stato visto da spettatori per cento. Canale 5, Una vita ha conquistato spettatori per cento. Canale 5, Uomini e donne ha catturato l'attenzione di spettatori per cento. Canale 5, Amici di Maria De Filippi ha ottenuto spettatori per cento. Canale 5, La striscia di sette minuti dell'Isola dei famosi ha raccolto spettatori per cento. Canale 5, Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di spettatori per cento. Canale 5, Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a spettatori per cento. Ascolti della mattina di venerdì 29 aprile 2022.Rai 1, Tg1 edizione straordinaria è stato seguito da spettatori per cento. Rai 1, Uno mattina ha raccolto 798 mila spettatori per cento. Rai 1, Storia italiana è stato visto da 803. 000 spettatori per cento. Nella prima parte e ne ha convinti per cento. Nella seconda parte. Rai 1, È sempre mezzogiorno ha conquistato spettatori per cento. Canale 5, Forum ha raggiunto spettatori per cento. Canale 5, Mattino 5 News ha totalizzato spettatori per cento. Nella prima parte e ne ha avuti per cento. Nella seconda. Rai 2, I fatti vostri, spettatori per cento. Nella prima parte, spettatori per cento. Nella seconda parte. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao